Avanti ancora più compatti, commenta così il sindaco di Ponte Cagnano Faiano Giuseppe Lanzara l'ingresso nella sua maggioranza di Arturo Orgilio, ex consigliere di Forza Italia che ha annunciato la sua adesione al Partito Socialista nel corso del Consiglio Comunale tenutosi giovedì. Un colpo a sorpresa che ha offuscato anche il ritorno in consiglio dell'ex sindaco Ernesto Sica che durante il dibattito ha criticato duramente il passaggio di Giglio alla maggioranza. Abbiamo riesumato un elefante politico che la città aveva condannato all'esilio totale ovviamente per un marchigegno politico fine a se stesso di dimissioni, cose ottocentesche oggi ce lo ritroviamo di nuovo in consiglio comunale e sappiamo che oggi abbiamo anche chi farà cabaret in consiglio comunale. Non crede ai motivi personali addotti da Mario Vivone? Bisognerebbe chiederlo innanzitutto alle 377 cittadini che l'hanno votato e che oggi sono completamente indignati nei confronti della Lega e nei confronti dell'ex consigliere Mario Vivone. Poi io penso che così situazioni del genere fatte all'ultimo momento in maniera così fulminea abbiano altri tipi di motivazioni. Le scelte se veramente riguardano anche valutazioni di carattere personale possono essere spiegate meglio alle città in consiglio comunale. La politica è questa. Loro probabilmente sono abituati a scrivere, a firmare atti, denunce o cose del genere. Li conosciamo benissimo, la città li conosce benissimo, noi siamo concentrati a rimboccarci le maniche e a lavorare nell'interesse esclusivo dei nostri cittadini. La sua maggioranza però ha registrato un nuovo acquisto, anche se non è bello definirlo così, cioè quello di Arturo Giglio che ha annunciato la sua adesione al Partito Socialista e di conseguenza il suo ingresso in maggioranza. Come giudica questa decisione di Giglio? Questa in pratica è la dimostrazione di quello che dicevamo prima, cioè il fatto che in realtà il ritorno di chi è responsabile amministrativo degli ultimi decenni in qualche modo ci rafforza solamente perché è evidente che persone per bene, che si sono candidate anche da civici in contrapposizione con la nostra proposta politica iniziale, oggi vedono in noi la possibilità di fare un lavoro serio nell'interesse della città, dall'altro lato invece trovano soltanto sponda populismo, accuse fine a se stesse, di staff, di consulenze quando sappiamo benissimo che invece noi stiamo puntando a una riduzione drastica delle spese, vogliamo provare a ridurre il più possibile lo sperpero degli ultimi anni e andare su politiche che invece possano dare risultati reali nei confronti dei cittadini. L'ingresso con noi di Arturo Giglio che è una persona splendida, onesta e che davvero con il suo gruppo fa politica non nell'interesse suo esclusivo ma di tutta la comunità, la sua scelta per noi è motivo di orgoglio, è motivo di ulteriore responsabilità, siamo convinti che lui potrà darci una grande mano per quelle che sono le sue competenze e le sue esperienze. Grazie a tutti.